Buonasera a tutti. Adesso cediamo la parola a Eliseo Fioraso per il Guangxi Net. Solo una preghiera. Se qualcuno di voi ha il cellulare acceso perché sta aspettando una chiamata da Stoccolma, devo darvi una brutta notizia purtroppo. Temo che i giochi per il 2017 siano già chiusi. A questo punto se ne riparla nel 2018. Quindi potete tranquillamente porre in modalità silenziosa il cellulare. Tanto una telefonata da Stoccolma questa sera non arriva. Vi ringrazio. A Eliseo la parola. Buonasera a tutti. Ben arrivati. Qualche mese fa, noi sempre in questa sede, abbiamo avuto il piacere di avere il professor Bucchi che ha presentato un libretto che io considero bello, piacevole. Io anche quando ho la possibilità anche a Natale, finché non va in esaurimento, lo regalo. Perché? Per un pugno di idee, storie di innovazioni che hanno cambiato la nostra vita. Paginette molto sintetiche, veramente una cosa che apre la mente. Perché parlare come nascono alcune innovazioni, qualche volta da idee particolari, possiamo arrivare poi anche a conclusioni più generali. Questa sera, ovviamente in linea anche con quelli che sono i suoi interessi, noi ci troviamo a presentare la sua nuova opera, è come vincere un Nobel, storie e retroscene, protagonisti e premio che ha cambiato l'immagine pubblica della scena, della scienza. E qui in questi due libri, ma anche nell'altro che abbiamo avuto il piacere di presentare come il pollo di Newton, bellissimo anche il titolo, noi troviamo proprio la passione l'estro del professor Bucchi quando parla di scienza, cioè si vede che la sua passione è quella di trasmettere qualche cosa. Lui insegna scienza e tecnologia all'Università di Trento e questa sera viene a presentare questa sua opera. Io volevo citare, visto che siamo in tema di Nobel, un piccolo passo di un'intervista che uno dei tre Nobel della fisica Barry Barish ha rilasciato in un quotidiano nazionale. Questo è uno dei tre fisici che hanno vinto il premio Nobel quest'anno, mi sembra, sulle onde gravitazionali. Adesso devo stare molto attento a parlare perché c'è il professor Giulio Nardon che è un esperto su questo, che poi mi correggerà sicuramente. Lui dice, in questa intervista, in cui gli chiedono cosa ne pensano i suoi nipoti del fatto che abbia vinto premio Nobel, lui dice, ho cercato di spiegare loro cosa sono le onde gravitazionali e come le abbiamo trovate. Ma non è questo che mi interessa. Penso sia più importante trasmettere loro la passione per la scienza, il piacere della scoperta, l'importanza di lavorare sodo e di avere un obiettivo nella vita. E io credo proprio che questi siano anche gli obiettivi che noi ritroviamo nelle pubblicazioni del professor Bucchi e per quale lo ringrazio per la sua presenza. E in linea perfetta con quanto ho detto, io credo che siano anche questi gli stessi obiettivi che il professor Giulio Nardon, amico dei Guangxi, persegue da anni attraverso l'esperienza della via delle scienze, che io ritengo uno dei momenti più alti e significativi del dibattito scientifico nella nostra città, perché riesce a coinvolgere centinaia di giovani, famiglie esperte, portando qui anche interlocutori e relatori di altissimo profilo. Quindi credo che anche la loro presenza qui sia un perfetto conubio. Ringrazio anche il professor Giulio Nardon. Dopo aver letto il libro, e poi loro ne parleranno, io volevo concludere con una piccola solo ricordo. Qui dice come vincere un Nobel ne esce un profilo, un piccolo identikit, mi potete capire, almeno negli ultimi anni, che deveva essere un uomo di mezza età, bianco possibilmente, anglosassone ancora meglio, più ancora americano, magari che insegnano delle belle università importanti dove ci sono altri premi Nobel. Però non è solo questo, è interessante il libro, è che poi ci dimostra invece che la storia nel passato è stata diversa, perché anche l'assegnazione del premio Nobel ha risentito molto anche dei fenomeni storici, nazionalismi che c'erano. Però, come ho detto, uomo, ma donne ben poche, perché sono neanche il 5% circa dei premi Nobel assegnati. E per quanto riguarda la scienza, ancora meno la presenza delle donne. Quindi io volevo concludere solo ricordando, anche se non è l'oggetto del libro perché padiamo di scienza, ma noi in Italia abbiamo avuto due donne, premio Nobel, una in particolare è Riva Montalcini, che ha preso il Nobel, mi sembra, per la medicina, l'altra è un'altra scrittrice, e credo che sia orgoglio anche della nostra nazione avere due donne che in proporzione sono il doppio di quelle che abbiamo assegnato a livello internazionale. Ecco, nel ringraziare i relatori volevo solo ricordare che l'iniziativa che noi portiamo avanti ha sempre il patrocinio dell'amministrazione comunale che ci mette a disposizione questa sala, poi ci sarà l'assessore Cocco che porterà un saluto dell'amministrazione. È stata fatta assieme a Guangxi e la Via delle Scienze, una collaborazione che ha già qualche anno, e poi in fondo alla sala, se volete acquistare questo libro, bel libro del professor Bucchi, c'è la disponibilità di un punto vendita messo a disposizione della libreria di Franceschi. Grazie a voi tutti, l'assessore Cocco. Grazie Elisa Fioraso, grazie a tutti voi, grazie soprattutto a chi ha organizzato questa iniziativa, quindi all'istituto ITISVEM, a Guangxi Net e alla DITAMER che ha contribuito. Condivido l'apprezzamento per il percorso della Via delle Scienze, che è davvero una ricchezza, una delle tante, mi viene da dire, di questa città, che è una città, diciamo una piccola città, ma che dal punto di vista culturale davvero riesce sempre a sorprendere per capacità e anche capacità di innovare, di proporre cose nuove che io che frequento anche altre città del Vento vi assicuro non sono così frequenti. Ringrazio ovviamente i relatori, il professor Bucchi e il professor Nardone. Dico solo due parole per giustificare la mia presenza. Ho letto il libro e l'ho letto volentieri, sinceramente è stata anche una scoperta ed è uno di quei libri che ho letto così, diciamo velocemente, così voracemente, che quando arrivi all'ultima pagina vorresti ripartire per andare a rigoderti alcuni passaggi, perché davvero non è solo una storia o un testo di sociologia della scienza, ma è anche un testo curioso, ricco, ricordo di aneddoti, ben raccontato, con tantissimi spunti di biografie straordinarie, quindi anche un materiale diciamo ricco e che davvero consiglio a tutti di leggere con attenzione e sarà anche una lettura di piacere. Mi ha colpito questa carrellata di uomini straordinari e mi ha colpito anche il valore di celebrare questa straordinarietà attraverso un premio e quindi mi piace ricordare che a Valdagno una volta c'era un premio analogo che non per niente era chiamato volgarmente il piccolo Nobel e quindi da questo punto di vista ovviamente il premio Marzotto. È ahimè uno di quei patrimoni che non si è portato avanti e che forse sarebbe da riscoprire, magari in epoche più fortunate qualcuno riscoprirà, ma al di là di questo il valore di questi esempi mi sembra assolutamente importante e quindi giusto da ricordare. Il secondo invece elemento è che ho sempre pensato io personalmente al premio Nobel come a un episodio diciamo anche pubblico in cui si otteneva uno spaccato di quello che poteva essere il mondo scientifico, perché in particolare per quanto riguarda l'aspetto appunto della scienza era il momento massimo di celebrazione delle scoperte, delle iniziative, delle innovazioni. In realtà poi leggendo come avvengono le dinamiche anche molto diciamo particolari della selezione e delle modalità di assegnazione del premio e anche della stessa scoperta scientifica, del processo di scoperta scientifica, mi sono preso conto quanto invece contano altri aspetti che normalmente non si raccontano, la vita quotidiana delle persone, qualche volta il caso, la fortuna, qualche volta l'amore e gli affetti, qualche volta episodi storici come le guerre, i nazionalismi e quindi in realtà mi ha fatto riflettere su quanto questo premio Nobel non possa essere forse uno spaccato della scienza ma piuttosto uno spaccato più ampio della vita o della società e quindi da questo punto di vista vi assicuro che è ancora una volta una lettura davvero interessante. Termino qui e ringrazio tutti e buona serata. Bene, come è già stato annunciato questa è una serata di joint venture in qualche modo tra Guangxi e la via delle scienze e quando Maurizio Martini circa tre mesi fa mi ha contattato facendomi questa proposta, proponendomi la serata che adesso finalmente sta avendo luogo ne ho trovato tre motivi e mezzo di soddisfazione e volevo molto rapidamente citarveli il primo naturalmente è il fatto che in qualche modo noi siamo gli allievi e Guangxi rimane il nostro maestro di attività e quindi quando il maestro chiama gli allievi, almeno gli allievi diligenti, corrono e corrono volentieri non sempre capita ai miei allievi ma in questo caso noi cerchiamo di essere degli allievi diligenti e corrono volentieri perché molto hanno imparato e sanno che molto hanno ancora da imparare dal proprio maestro e quindi lavorare insieme a lui è sempre una soddisfazione e questo è il primo motivo il secondo motivo naturalmente è quando ho saputo chi era il nostro ospite appunto è già stato detto molto bene prima di me Massimiano Bucchi è stato presente già due volte a Valdagno, ha presentato i suoi lavori e quindi avevo delle alte aspettative ancora prima di poter leggere il libro di quello che sarebbe successo devo dire che queste aspettative sono state ampiamente superate ed era quello che mi aspettavo in qualche modo sapevo di incontrare una persona che riesce ad unire due qualità già di per sé commendevoli da sole e cioè da un lato la serietà del ricercatore di razza e dall'altro la capacità di divulgatore di presentare in modo piacevole, con passo lieve con un tocco d'umorismo che poi rimane in retrogusto e che dà la soddisfazione al lettore, anche il lettore non particolarmente ferrato nel campo di cui si parla di godere il libro e di dire oh l'ho capito, mi è piaciuto è una cosa che ho letto volentieri e di cui ancora leggerei qualche cosa con estremo interesse ciò mi aspettavo, ciò è effettivamente successo, quindi secondo motivo di soddisfazione il terzo naturalmente è l'argomento si parla di Nobel, quindi si parla di scienza Massimiliano Bucchi ci parlerà dei Nobel, ma non di tutti i Nobel di quelli dedicati in realtà al campo scientifico e quindi alla fisica, alla chimica, alla fisiologia e medicina sono tre tre i Nobel istituiti e per noi l'argomento scienza ovviamente è la ragione d'essere della via delle scienze però in questo caso l'argomento è un po' trasversale appunto non in particolare di scienza si parla ma di scienziati, della loro attività, della loro ricerca e lo si fa dalla lente di ingrandimento più autorevole da quella che in qualche modo presenta l'empireo della scienza e cioè il Nobel, il Nobel, chiedo scusa hai visto? Ho passato una settimana a studiare come si doveva pronunciare e adesso questa sera mi dice che gli svedesi dicono Nobel quindi come i francesi e quindi sbaglierò molto spesso, temo e stavo dicendo che il nostro punto di vista in qualche modo era quello della scienza ma ora di scienziati appunto si parlerà naturalmente dato l'osservatore in qualche modo lui non si limita a mio giudizio nel libro a parlare di soli scienziati e certamente non di solo il punto di vista del Nobel eccolo qui perché in qualche modo è un arco di trionfo quello attraverso i cui i vincitori di questo ambitissimo premio passano ma lo sguardo di chi osserva, di chi scrive non guarda solo attraverso l'arco ma guarda anche chi quest'arco non è riuscito ad attraversare per i più vari motivi guarda anche il pubblico che sta osservando la scena guarda anche l'immagine che la scienza stessa offre di sé e alla quale il Nobel dà una patina di estrema autorevolezza tutto questo nel libro tutto questo nelle parole che credo tra poco sentiremo e questi sono i tre motivi che mi soddisfano molto e che mi hanno reso impaziente di arrivare a questa serata come dite? ho detto tre e mezzo? non vi sfugge niente ok prima della fine della serata l'altro mezzo credo che verrà fuori ma vorrei tenermelo alla fine perché è un po' personale se mi permettete quindi a questo punto io passerei passerei senz'altro differentemente da quella che è la mia consuetudine questa sera io cercherò di fare una sorta di intervista di rivolgere delle domande e di coinvolgere poi naturalmente anche il pubblico alla fine con delle domande che spero saranno particolarmente numerose la curiosità credo non mancherà agli argomenti di cui stiamo per parlare e allora cominciamo si dice Nobel come si dice Ferrari come si dice Nutella non c'è bisogno di specificare il premio l'auto il noto dolce è quasi pedante doverlo dire per autonomasia il Nobel è il premio tra tutti i premi io qui ho un foglio è del Corsera della settimana scorsa se riuscite a vederlo Nobel della ricerca lombarda ok tutto è Nobel quando un politico vuole essere preso in giro dagli altri è quasi un Nobel come dire non ci arriva ecco però prima che un premio Nobel era una persona e in qualche modo Alfred Nobel è stato anche un personaggio mi sembra nel tuo primo capitolo tu parli di questa persona e io credo che potremmo aprire proprio da lui come è nato il premio Nobel partendo da Alfred allora è una storia che ha subito gli elementi per affascinare per coinvolgere per curiosire perché comincia dalla fine cioè comincia con un necrologio quindi immaginatevi questa scena Nobel nella sua bella casa di Parigi lui viveva tra Parigi e Sanremo aveva questa bella casa in Avenue Malakoff poi aveva una villa a Sanremo che è il motivo per cui la cerimonia dei Nobel che ci sarà tra circa un mese il 10 di dicembre i fiori arrivano dalla città di Sanremo continua questa tradizione 1888 appunto lui si sveglia nella sua casa a Parigi probabilmente si mette la vestaglia per fare colazione si siede apre il giornale e vede il suo necrologio e sotto il titolo il mercante di morte finalmente è morto che faceva riferimento alle invenzioni con cui lui aveva accumulato una fortuna tra cui la dinamite e la gelatina esplosiva anche se poi queste invenzioni non erano invenzioni belliche erano invenzioni poi utilizzate soprattutto per fare le grandi infrastrutture naturalmente il necrologio cioè pensate appunto aprire il giornale e vedere il vostro necrologio il necrologio non era il suo ovviamente perché lui era vivo lo stava leggendo era per il fratello Ludwig che era morto qualche giorno prima però il titolo era per lui il mercante di morte è morto e questa idea di essere ricordato in questo modo dai suoi contemporanei comincia ad assillarlo e probabilmente alla base della creazione del premio di questo singolare testamento che è un testamento brevissimo Nobella aveva fatto dei testamenti molto più lunghi molto più complessi a un certo punto nel 1895 convoca in gran segreto senza spiegare neanche il motivo quattro testimoni imprenditori prevalentemente insomma suoi conoscenti al club svedese di Parigi e gli fa fare da testimoni nella sottoscrizione di un testamento brevissimo una pagina che annulla tutti quelli precedenti e stabilisce che tutto il suo patrimonio realizzabile così lui si esprime che all'epoca ammontava quelli che oggi sarebbero circa 170 milioni di euro quindi bella fortuna debba essere investito quindi andare a costituire un fondo i cui interessi saranno suddivisi in cinque parti pensate che contenti i parenti no? e queste cinque parti sono appunto lo sapete no? cioè lui dice sarà gli interessi serviranno a dare cinque premi nel testamento coraggio fisica chimica medicina o fisiologia che cioè sono due ma sono uno in realtà no? e poi letteratura e la pace questi sono i premi che lui istituisce quello per l'economia è un premio che viene non è un vero premio Nobel è un premio che viene creato alla memoria di Alfred Nobel dalla banca di Svezia alla fine degli anni 60 quindi lui stabilisce di lasciare praticamente tutto quello che aveva tutto quello che poi poteva essere investito salvo alcune piccole cose che poi naturalmente serviranno anche a mettere d'accordo i parenti una sua amante che altrimenti avrebbe rivelato una corrispondenza imbarazzante e muore l'anno dopo muore a Sanremo e il suo segretario che era piuttosto giovane aveva 26 anni si trova a dover poi realizzare queste volontà così sintetiche e quindi impiega cinque anni a far accettare ai parenti agli scienziati che loro stessi non ne volevano sapere gli scienziati svedesi di prendersi questa patata bollente di assegnare questo premio nessuno aveva mai lasciato una fortuna aveva mai deciso di destinare ad un premio tantomeno scientifico tutti questi soldi e quindi si metterà in moto questa macchina che poi nel 1901 assegnerà i primi premi Nobel c'è una leggenda popolare non si sa capisce bene nata come secondo cui non ci sarebbe un premio Nobel per la matematica perché l'avete sentito anche voi la moglie di Nobel avrebbe avuto una relazione con un matematico e lui temeva che istituendo il premio questi avrebbe potuto vincerlo un certo Mittag Leffler in realtà è una leggenda evidentemente priva di fondamento perché Nobel non si sposò mai tra l'altro un'altra vicenda che lo segna profondamente in quegli anni è legata ad un'altra cosa che esce sul giornale ma in questo caso è un suo annuncio lui cerca una segretaria un assistente che lo aiuti un po' a organizzare lui era sempre in viaggio un grande inventore imprenditore pensate che aveva 355 brevetti anche se poi oggi l'invenzione per cui più noi lo ricordiamo è premio Nobel no? Mette questo annuncio e risponde questa baronessa von Suttner di una famiglia nobile un po' decaduta lui si trova molto bene forse è invaguito di questa giovane signora e poi questa qui però poche settimane dopo aver preso servizio fugge per sposarsi con un uomo di nascosto dalla famiglia però i due rimangono in contatto e lei diventa un attivista pacifista vincerà il premio Nobel poi in seguito e è possibile che questa donna abbia avuto un'influenza o la loro frequentazione sulla decisione di istituire anche un premio per la pace in realtà appunto quando uno si chiede ma perché non c'è la matematica appunto agenda infondata ma perché non c'è la botanica non c'è la geologia la verità è che in quel testamento c'è la vita di Alfred Nobel e c'è la chimica e la fisica erano il suo lavoro la medicina era un suo interesse poi aveva avuto anche lui i suoi problemi di salute soprattutto negli ultimi anni la letteratura era la sua grande passione lui aveva anche provato a scrivere delle cose era un grandissimo lettore e la pace è un interesse che forse anche attraverso la frequentazione con questa donna lui aveva sviluppato quindi questo è il motivo per cui ci sono queste cinque cose poi diciamo la fortuna dell'invenzione e del premio Nobel perché naturalmente una delle domande che io mi faccio nel libro è cosa ha reso il premio poi così importante non solo per gli scienziati ma anche per il grande pubblico e magari un altro motivo lo svelo dopo ma un motivo è proprio questa combinazione di cose che catturano anche pubblici e mettono insieme cose diverse quindi le discipline la fisica e la chimica poi erano le discipline su cui lui si era formato Nobel aveva studiato prevalentemente a casa perché la sua famiglia viveva in Russia e quindi erano venuti dei professori a casa la famiglia Nobel erano i Rockefeller dell'Europa a un certo punto controllavano il 50% del petrolio di tutto il mondo e quindi diciamo le discipline scientifiche vengono singolarmente abbinate con la letteratura cui tra l'altro lui precisa una delle poche cose perché ne specifica veramente poche dice di ispirazione voglio che sia premiata l'opera di ispirazione idealistica cosa questo voglia dire e poi la pace quindi diciamo è un premio che mette assieme delle cose più concrete con delle cose più appunto dell'aspetto letterario la pace la speranza che alcune persone potessero contribuire alla pace tra le nazioni e poi naturalmente altri motivi e infatti il premio fin da quando viene reso noto il testamento i parenti non sanno nulla del testamento lo scoprono quando lui è già morto lo scoprono insieme al segretario che poi dovrà organizzare tutto ma iniziano subito i mezzi di informazione la stampa di tutto il mondo a parlare di questo strano testamento e poi del premio ok allora parliamo di questo premio a questo punto Novella ha dato pochissime indicazioni quindi un'opera d'arte di carattere idealistico e poi un autore che abbia scritto un'opera di questo tipo e ogni anno si darà un premio a questo punto però qualcuno deve formalizzare quali sono i criteri attraverso i quali si può fissare chi dovrà vincere il premio e questa formalizzazione mi sembra nel corso del tempo abbia subito qualche piccolo aggiustamento vuoi parlarci di che cosa bisogna fare per vincere un premio Nobel beh intanto quando vi sentite un po' giù pensate che una caratteristica per vincere il premio Nobel ce l'abbiamo tutti qua dentro no? qual è? no chi l'ha detto? beh la curiosità magari qualcuno ce l'ha di più di meno ma una cosa in comune ce l'abbiamo tutti e quella diciamo è la prima senza quella proprio il premio Nobel non c'è nessuna speranza essere vivi essere vivi il premio Nobel non si può dare postumo non si può dare alla memoria è un premio che si dà a persone vive no? questo tra l'altro diciamo è stato poi successivamente specificato e precisato ci sono stati anche degli episodi poco piacevoli per esempio mi pare nel 2011 l'Accademia delle Scienze continuava a chiamare uno scienziato che aveva vinto il premio Nobel non lo trovava mai e poi si è scoperto che era morto pochi giorni prima però avendo già annunciato reso pubblica la decisione l'interpretazione che è stata data degli statuti della fondazione Nobel perché sono quelli che poi davvero regolano l'assegnazione del premio è stato che ormai il premio era stato assegnato però diciamo questo anche spiega poi alcuni episodi o l'assenza di alcuni nomi che in effetti è abbastanza eclatante e drammatica per esempio sicuramente avete sentito nominare Watson e Crick quelli della doppia elica DNA molti ritengono che avrebbe dovuto essere premiata anche una scienziata che si chiamava Rosalind Franklin dal cui laboratorio era uscita la foto a raggi X che Watson dice nella sua autobiografia appena la vidi mi fece rebattere il cuore perché mi fece capire quale poteva essere l'interpretazione della struttura del DNA e quando però furono premiati che poi anche quella diciamo è una storia molto singolare Watson e Crick nel 1962 Rosalind Franklin era morta di cancro qualche anno prima e quindi diciamo anche volendo non la si non la si sarebbe potuta premiare quindi essere vivi poi altre caratteristiche secondo voi bisogna essere nominati e le nomination del premio Nobel sono il contrario di quelle del grande fratello cioè sono nomination non per escludere ma per includere quindi ci sono un certo numero di scienziati e scienziate nel mondo che ricevono una lettera dall'Accademia delle Scienze per la Fisica e la Chimica dall'Istituto Karolinska per la Medicina perché anche questo lo specifica già Nobel lui dice voglio che il premio per la Fisica e la Chimica sia dato dall'Accademia delle Scienze e quello per la Medicina dal Karolinska quindi questi scienziati e scienziate ricevono l'invito a nominare cioè a dire secondo me questa persona merita il premio Nobel per questo motivo una volta ricevute queste nomination si fa una prima scrematura si riduce sempre di più l'elenco dopodiché il Comitato Nobel che sono pochissime persone 5 per la Fisica 5 per la Chimica 5 per la Medicina fa una raccomandazione anche questa non è la raccomandazione che pensiamo noi cioè mio fratello mio cugino la raccomandazione significa che propone all'Assemblea dell'Accademia delle Scienze che vota tutta insieme quindi anche questo è singolare anche i chimici votano sui fisici e viceversa propone di premiare lo scienziato o lo scienziata anzi gli scienziati perché anche questo appunto è un'interpretazione che poi costituendo il segretario di Nobel la fondazione specifica cioè Nobel nel testamento dice che sia premiato lo scienziato addirittura lui dice che nell'anno precedente poi in realtà questo criterio è stato anche questo reso più elastico per esempio quest'anno sono stati premiati per il loro studio dei ritmi circadiani in medicina i scienziati che hanno fatto queste ricerche tra gli anni 80 e 90 a volte addirittura sono stati premiati dopo 40 anni anche Higgs per il bosone di Higgs anche se lì poi c'era stato un esperimento recente anche questo poi diciamo la prudenza nella decisione di attribuire il premio è una cosa che si potrebbe poi approfondire e poi lui dice allo scienziato lui parla al singolare in realtà poi si è stabilito di poterne premiare un massimo di 3 ogni anno quindi quest'anno in realtà negli ultimi anni quasi sempre si è usato questa possibilità al massimo cioè per premiare maggior numero possibile di persone attenzione che si può vincere il premio in 3 ma si può vincere un quarto o metà del premio l'aritmetica del premio Nobel è un po' bizzarra come mai secondo voi perché si può darne metà a uno e l'altra metà divisa tra gli altri due quindi diciamo uno prende il 50% della cifra che è quanto è secondo voi e chi ha letto il libro non vale però quanto sarà più o meno secondo voi allora attualmente sono circa 900 mila euro un po' meno di un milione però come vi ho detto prima questa cifra varia può cambiare anche di molto perché è legata al rendimento agli interessi che vengono derivano dal rendimento di quel fondo quindi se gli investimenti vanno bene è più elevata se vanno male quindi diciamo se vi auguro di vincere l'anno prossimo prendete questa cifra che non è male avreste potuto prendere di più nella storia se è arrivati a un milione e due avreste potuto prendere anche 200 mila euro come è successo negli anni più bui non sono non sono soldi per la ricerca anche se alcuni scienziati soprattutto agli inizi pensate per esempio Marie Curie questi scienziati che non avevano grandi mezzi all'epoca non c'erano finanziamenti importanti salvo qualche eccezione da parte delle istituzioni però per il resto ci potete fare quello che volete c'è chi ci ha rifatto il giardino di casa ha comprato gli appartamenti Einstein per esempio apparentemente non ha mai visto un euro anche se io riporto anzi una corona svedese anche se io riporto nel libro l'assegno intestato a lui perché aveva fatto un accordo con la prima moglie per cui lui aveva detto se mi dai il divorzio se vinco il premio Nobel i soldi li prendi tu stabilite voi chi è stato più furbo tra i due quindi appunto detto in tre questo è il motivo per cui si parla di terze persone a volte perché cosa succede? succede che potendone premiare tre se anche diciamo lo meritavano soprattutto in due però c'è un terzo che ha contribuito però magari un po' meno alla ricerca già che ci siamo premiamo anche lui questo per esempio ha portato a premiare degli scienziati che però poi diciamo è un po' una benedizione e una maledizione prendi il premio Nobel ma poi tutti ti dimenticano proprio perché eri una terza persona entrata all'ultimo momento infatti se io vi dico Watson e Crick no? anzi qualcuno a volte pensa sia un'unica persona Watson e Crick no? invece sono due anzi uno è ancora vivo ma se io vi dico Wilkins non vi dice nulla no? e invece l'ha preso l'hanno preso in tre Watson, Crick e Wilkins erano due laboratori diversi e poi c'è anche diciamo questa terza persona io nel libro un po' scherzosamente lo chiamo l'effetto Ringo Starr perché sapete che Ringo Starr che era batterista dei Beatles però non era come gli altri un autore di canzoni importanti lui diceva nella mia vita l'unica cosa buona che ho fatto è stato quando mi hanno chiesto di entrare nei Beatles ho detto di sì e quindi diciamo la terza persona è quello che si trova al posto giusto nel momento giusto poi invece ci sono le quarte persone che sono appunto quelli che magari lo meritavano però potendone premiare solo tre è un po' come quello che arriva a quarto alle Olimpiadi anche quello sull'analogia tra Olimpiadi e Premio Nobel si potrebbe dire qualcosa e quindi la storia io un po' li racconto li chiamo i fantasmi del Premio Nobel si può fare anche la storia del Premio Nobel guardando a quelli che non l'hanno mai vinto e l'avrebbero magari meritato ecco qui in qualche modo tu mi tu se non mi interrompi adesso mi aggancio però a questo punto perché la tua affermazione sulle tre persone che possono al massimo essere premiate quindi c'è la quarta con la medaglia di cartone la quale alla fine non consegue alcun premio alcun riconoscimento ecco mi aggancio ad un articolo che è uscito subito dopo l'annuncio il 17 di ottobre da parte dei più grandi enti di ricerca fisici in particolare tra gli Stati Uniti e l'Italia che ha collaborato molto attivamente su questa ricerca sulla scoperta della prima controparte ottica delle onde gravitazionali quindi una bomba una cosa assolutamente inaspettata noi qui il 6 di ottobre avevamo il professor Coccia il quale indubbiamente lo sapeva già questo lo so da fonti certe e io in auto quando lo accompagnavamo qui da Venezia gli chiesi professore lei crede che un giorno riusciremo a vedere una controparte ottica delle onde gravitazionali lui mi guardò molto serio e mi disse sì non si sbilanciò in alcun modo ma era abbastanza certo che saremmo riusciti a trovarla visto che ci eravamo riusciti due mesi prima ecco fu pubblicato subito dopo un articolo naturalmente su questo fatto e l'articolo uscì su Astrophysical Journal Letters e porta la firma di Benjamin Abbott et al et al vuol dire ed altri questi et al occupano 24 le prime 24 pagine di quell'articolo sono circa 3500 persone per un totale di 60 collaborazioni internazionali e varie centinaia di enti universitari di ricerca allora la domanda vuole essere questa il premio Nobel è ancora qualche cosa di sensato nel campo scientifico è ancora possibile discriminare il genio o al massimo i tre geni che in un anno sono meritevoli di questo premio quando ormai la big science la ricerca sta procedendo quasi esclusivamente almeno nel campo fisico da quanto mi è dato di vedere su grandi collaborazioni su enormi numeri di persone lo scienziato esiste ancora? Sì questa è una delle due critiche principali che oggi vengono fatte al premio cioè quello di come avete capito di non rispecchiare cioè di continuare a premiare individui in un settore in cui pensiamo anche all'esperimento del CERN sul bosone di Higgs ci sono migliaia di persone coinvolte l'altra critica è quella di non rispecchiare di non prevedere discipline che sono diventate molto importanti pensate appunto la geologia le scienze ambientali una grande quantità di settori scientifici che sono esclusi dal premio Nobel certamente queste critiche sono rilevanti però io credo che soprattutto per un lungo periodo perché Nobel ormai ha più di un secolo di storia proprio questo fatto di focalizzarsi sugli individui sia stata una delle ragioni del successo del premio cioè che cosa ha fatto il premio a una cosa astratta e distante come la maggior parte di noi come la scienza la scienza per il grande pubblico resta una cosa abbastanza a cui abbastanza difficile pensare così in generale ha dato la possibilità di dare dei volti dei nomi anche dei corpi delle storie sono delle storie incredibili nel premio Nobel sia di quelli che l'hanno vinti adesso magari poi se raccontiamo una tra quelli che l'hanno vinti e quelli che non l'hanno vinto ci sono delle storie estremamente drammatiche sono delle storie epiche quindi questo fatto cioè se fosse stato dato perché anche questo viene notato in realtà non c'è nessun nulla né nel testamento né negli statuti che impedisca di premiare delle organizzazioni per esempio il SER questo avviene per esempio per la pace e la pace sono state premiate una ventina di volte non degli individui ma delle organizzazioni anche quest'anno è stata premiata un'organizzazione che si impegna per il disarmo nucleare però ripeto una delle ragioni è che proprio Nobel arriva nel momento giusto in almeno due modi con l'idea giusta la prima inconsapevolmente naturalmente la prima è proprio questa cioè fine dell'ottocento inizi del novecento la scienza si avvia a diventare una cosa sempre più organizzata sempre più complessa e inevitabilmente sempre più spersonalizzata come oggi e lui gli dà dà la possibilità al pubblico ai media agli stessi scienziati di dargli concretezza attraverso queste storie questi personaggi queste scoperte che vengono premiate e l'altro è che che cos'è che viene inventato o meglio reinventato proprio negli stessi anni del testamento di Nobel ma è scappato prima quindi avete già capito 1896 le Olimpiadi cos'hanno in comune i Nobel e le Olimpiadi a parte il fatto che c'è un signore che ha vinto sia il Nobel che la medaglia d'oro alle Olimpiadi un inglese Nobel per la pace ma questo è un dettaglio il fatto che danno la possibilità entrambi creano una possibilità di competizione pacifica tra le nazioni cioè danno la possibilità di sublimare o surrogare la competizione nazionale in modo pacifico uno nella scienza e uno nello sport tant'è vero che subito subito la stampa comincia a pubblicare una specie di medagliera sapete quando ci sono le Olimpiadi i giornali pubblici quante medaglie ha preso gli Stati Uniti la Russia l'Italia cominciano subito a fare il conteggio di quanti Nobel sono andati a scienziati di un certo paese o di un altro per esempio i giornali tedeschi dicono che 1905 mi pare quando vincono tutti i tedeschi dicono beh questo è la dimostrazione della superiorità della nostra della nostra nazione e prendono in giro gli americani diciamo un paese così grande che non ha ancora vinto un Nobel poi gli americani si rifaranno come sappiamo ampiamente pensate che dal 1935 in poi non c'è mai stato un anno senza un premio Nobel americano quest'anno erano la stragrande maggioranza altre caratteristiche secondo voi per vincere un premio Nobel c'è un limite di età no anche questo dovrebbe incoraggiarvi non è mai troppo tardi per vincere un premio Nobel il più anziano premio Nobel della storia aveva 88 anni il signore che ho citato prima Kilby si chiamava che l'ha vinto a più di 80 anni 40 anni dopo aver inventato il circuito integrato è uno degli esempi anche questo appunto dovrebbe tirarci su di morale lui non ha mai pubblicato un articolo scientifico in vita sua non aveva fatto neanche il dottorato lui è laureato in ingegneria arriva alla Texas Instruments d'estate lo assumono quindi tutti gli altri vanno in ferie lui non sa cosa fare adesso esagero insomma però diciamo si trova senza un incarico specifico e si mette a ragionare come questa produzione che all'epoca era estremamente complessa quella che era l'alba poi dell'elettronica possa essere semplificata e alla fine quello che tira fuori è il circuito integrato lui inizialmente lo fa col germanio poi capisce che è meglio col silicio e senza questo signore non ci sarebbe la Silicon Valley insomma tanto per dire però ci hanno pensato bene dopo 40 anni gli hanno dato il premio Nobel quindi non c'è il limite di età secondo voi c'è un limite di età inferiore? no lo potrebbe vincere anche lei l'anno prossimo con calma con calma li conosco quello però è un record difficile da battere lo scienziato più giovane ad aver ricevuto il premio Nobel aveva 25 anni si chiamava Lawrence Bragg e lo vinse insieme al padre quando uno dice questa cosa in Italia dice al solito raccomandato no in realtà poi l'idea l'aveva avuta lui il padre l'aveva aiutato che era più esperto nel fare gli esperimenti però lui poi è uno di quelli sfortunati noi pensiamo oggi che perché c'è poca memoria dice ah Bob Dylan non è andato a ritirare il premio in realtà sono tantissimi quelli che non sono andati a ritirare il premio per vari motivi quello di Bragg purtroppo era abbastanza triste era in trincea nella prima guerra mondiale poveretto infatti scrive nel suo diario dice oggi abbiamo festeggiato hanno stappato una bottiglietta poi ci sono stati quelli che erano prigionieri di guerra quelli che nel periodo nazista a un certo punto Hitler decide di boicottare il premio e quindi per fargli dispetto insomma in realtà non è proprio così però indifferenti a questo boicottaggio comunque gli accademici svedesi decidono di premiare tra il 38 e il 39 ben tre scienziati tedeschi che non possono andare a ritirare il premio perché gli viene vietato poi ci sono quelli che dopo la seconda guerra mondiale non si fidavano soprattutto gli americani ad andare in Europa ritenevano che fosse ancora pericoloso un viaggio troppo lungo troppo faticoso e poi ci sono quelli come Einstein che lo viene a sapere mentre si sta imbarcando su un piroscafo diretto in Giappone dove lui ormai è famosissimo gli hanno organizzato una grande tournée gli danno un sacco di soldi e non ce la fa insomma non andrà mai a Stoccolma andrà poi l'anno successivo a un convegno a ritirare il premio il premio Nobel mi sono dimenticato di dirlo prima un'altra cosa geniale è che non può essere rifiutato cioè il premio viene assegnato ad ufficio si può eventualmente non andare a ritirare i soldi questo sì però non prevede accettazione da parte del destinatario quindi anche appunto chi non ha ritirato come gli scienziati tedeschi che ho citato prima come Sartre nella letteratura non ha ritirato la medaglia il diploma e il denaro comunque rimane nell'albodoro del premio quindi ci sono vari motivi per cui per cui si può non andare a ritirare il premio altre caratteristiche secondo voi quello aiuta purtroppo nel senso che lo diceva già prima professore ci sono state pochissime donne nelle scienze addirittura soltanto sedici quest'anno nessuna nella fisica pensate solo due una chi è? eh questa la sanno tutti quell'altra la conosce nessuno vedete qui anche questa è una domanda a cui cerco di rispondere nel libro alcuni Nobel sono più Nobel di altri come mai? l'altra si chiamava Maria Göppert e anche questa è una storia che dovrebbe insomma incoraggiarci perché questa signora non riuscì mai a trovare un lavoro lei fin dall'inizio lei nasce nell'attuale Polonia addirittura la scuola che lei frequenta chiude per la crisi finanziaria enorme ne finisce a malapena i suoi studi poi a un certo punto un po' per disperazione un po' perché si sposa con uno scienziato che trova un lavoro negli Stati Uniti si trasferisce negli Stati Uniti ma non riesce a trovare anche lei un incarico per cui continua a coltivare i suoi studi così insomma a titolo volontario pur avendo la stima di molti colleghi finché fa questa scoperta elabora un modello del nucleo dell'atomo a cui ha particolari configurazioni cosiddetto a cipolla corrisponde particolare stabilità per il quale riceverà il premio Nobel per la fisica ed era talmente sconosciuta lei abitava a San Diego che il quotidiano locale quando lei prende il premio titola mamma di San Diego vince il premio Nobel manco il nome gli scrivono e qui le domande sarebbero davvero molte mi si stanno accavallando e non so bene in che ordine presentatele allora tu hai fatto un collegamento direi interessante tra le olimpiadi e il premio Nobel però nel libro ne hai fatto anche un altro e io ne aggiungerei un altro ancora se mi permetti quello che fai nel libro è veramente molto affascinante ed è con la beatificazione ok ci sono molti aspetti comuni in qualche modo di sacralità del premio Nobel la segretezza della discussione iniziale l'inappellabilità del giudizio e poi naturalmente c'è l'enfasi con la quale il premiato viene appunto accolto nel novelo dei beati se così mi posso esprimere in entrambi i casi ci vuole il miracolo ci vuole il miracolo naturalmente certamente l'accertamento del miracolo ma come hai già messo in risalto prima c'è una piccola differenza cioè a San Pietro ci arrivi in effigie mentre appunto se non sei un caffone un po' un po' spocchioso a Stoccolma ci vai ultimamente e il premio te lo porti a casa l'altro paragone che si può fare con qualche cosa che ti investe di una fama planetaria è chiaramente il premio Oscar anche qui la parola premio è inutile l'Oscar punto tra l'altro cosa che non hai potuto citare nel libro ma quest'anno uno dei tre fisici premiati con il Nobel aveva in qualche modo anche se non ufficialmente vinto prima l'Oscar perché il premio per gli effetti speciali del film Interstellar è stato vinto da una società londinese per quanto ne so ma grazie alle elaborazioni matematiche fratte dal professor Kip Thorne ne parlavo con un amico in agosto un amico che è amico anche di Kip Thorne ha un livello ben diverso ovviamente e che mi diceva guarda quest'anno il Nobel lo danno di sicuro a lui ed è la prima volta che una persona che ha vinto l'Oscar vince anche anche questo premio quindi sono delle investiture vere e proprie direi d'accordo credo che ci sia che sia anche Al Gore che ha vinto quello per la pace e per il documentario e per il famoso documentario quindi quindi c'è in qualche modo qualche cosa che coinvolge l'immaginario collettivo e che ha a che fare con queste grandi mi permetto di chiamare anche quello della chiesa un premio se così posso esprimermi cos'hanno effettivamente in comune? Dunque in realtà il Nobel e il premio Oscar sì certamente diciamo ci possono essere come in tutti i premi degli aspetti comuni però quello con il processo di santificazione secondo me è un'analogia più forte ed è un'analogia che ha un fondamento storico molto profondo nel senso che anche lì Nobel arriva al punto giusto cioè arriva con l'idea giusta al momento giusto qual è il momento giusto? il momento giusto è il fatto che adesso ovviamente semplifico un po' poi nel libro chi vuole trova molti più esempi però soprattutto a partire da metà ottocento la società che si sta secolarizzando cioè che si sta emancipando dalla religione sempre più ha bisogno di individuare nuove figure di riferimento quindi una sorta di santi laici delle figure a cui si possano dedicare strade piazze monumenti ed è proprio in questo periodo che comincia a nascere questa iconografia degli scienziati se voi guardate per esempio Galvani a Bologna quando cominciano ad apparire anche la stessa che poi è una storia estremamente affascinante il stesso monumento a Giordano Bruno a Roma nascono tutti in questo periodo e il modello dell'iconografia di questi per esempio è in questo periodo che anche il mito il mito nel senso diciamo neutrale del termine di Galileo del suo sacrificio della sua lotta contro la chiesa viene reinventato o viene ricostruito questo l'iconografia di questi scienziati viene modellata su che cosa su quella che tutti conoscevano cioè su quella dei santi se voi guardate i ritratti degli scienziati prendete Marconi per esempio si mette in posa con la sua invenzione e sono modellate su proprio l'iconografia dei santi che hanno sempre l'oggetto o l'animale con cui hanno fatto il miracolo perché appunto attenzione anche questa è una caratteristica che a volte si dimentica il Nobel non è un premio a differenza di uno degli Oscar non è un premio alla carriera infatti ci sono grandi scienziati che non l'hanno vinto perché hanno fatto tante cose abbastanza importanti ma non ne hanno fatta una clamorosa il premio si dà a una scoperta o invenzione e quindi diciamo ci sono una serie di analogie e poi c'è anche la forma che è molto particolare anche quello contribuisce al successo al fascino che è la celebrazione il fatto che in questa settimana a cui appunto vi auguro soprattutto ai giovani di partecipare da protagonisti c'è veramente una consacrazione dello scienziato il re che ti stringe la mano ti dà il diploma in questa sala straordinaria che è la concertuset il banchetto i ricevimenti io cito il premio Nobel che dice al banchetto perché il più anziano di ogni materia non tutti devono fare un breve discorso alla fine del banchetto che è forse l'evento più ambito per chi vive in Svezia l'evento dell'anno partecipare alla cerimonia al banchetto dei Nobel e in questo discorso lui dice questo è l'unico rivolgendosi alla famiglia reale di Svezia dice vostre maestà vi ringrazio perché questo è l'unico posto in cui i principi rendono omaggio alle molecole e quindi che cosa significa anche questo dal punto di vista per un sociologo come me che questo è un momento in cui la società attraverso il singolo scienziato esprime deferenza alla scienza per tutto quello che fa come scrive Nobel nel testamento per il bene dell'umanità questa era la sua idea ecco poi ci sono stati dei premiati che tanto bene all'umanità non hanno fatto però questo potrebbe essere un altro un altro tema però sicuramente diciamo questo aspetto della cerimonia della sacralizzazione che poi si riverbera anche sul corpo dello scienziato perché io ne cito qualche esempio forse l'avrete anche visto diciamo la conferma di questo processo di santificazione tra virgolette degli scienziati è anche il fenomeno delle reliquie degli scienziati se voi andate a Firenze al museo di storia della scienza vedete che cosa il canocchiale sì ma anche il dito medio di Galileo che viene esposto proprio come reliquia come a Pavia ci sono addirittura le teste di alcuni anatomisti che le donarono all'istituto e ce ne sono sono tanti di questi esempi all'istituto Pasteur nei sotterranei c'è il mausoleo la tomba di Pasteur quindi diciamo c'è questo aspetto e naturalmente il corpo dello scienziato è un corpo trasfigurato lo scienziato è tutto mente è tutto testa quindi il suo è un corpo disincarnato non so se posso leggere una brevissimamente è molto interessante per esempio il momento in cui gli scienziati ricevono la notizia del premio allora questo è Rita Levi Montalcini che così racconta sono parole sue lei ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 1986 erano le 11 del mattino stavo tranquillamente seduta a leggere le ultime pagine di un thriller di Agatha Christie quando ha squillato il telefono l'Accademia delle Scienze Svedese mi comunicava che mi era stato assegnato il premio Nobel per la medicina assieme al mio amico e collega Stanley Cohen ho brindato al Nobel con un brodo un pasto frugale a base di brodo e riso e poi una lunga dormita qui c'è anche la la morigeratezza dello scienziato la sua indifferenza per gli aspetti mondani ci sono moltissimi lo racconto anche nel pollo di Newton c'è tutta una grande tradizione di questi scienziati ascetici nella stessa mitologia di Einstein nel fatto che lui si dimenticava le cose Newton si dimenticava di mangiare quindi diciamo c'è tutto questo questo aspetto anche questa enfasi su sullo scienziato che magari ha la cerimonia inciampa è un po' goffo un po' imbranato dice quando gli chiedono ma cosa farà del premio per esempio dice non ci ho ancora pensato queste cose se ne occupa mia moglie questa indifferenza per gli aspetti pratici e poi naturalmente c'è tutto il registro della modestia perché nel momento in cui lo scienziato viene consacrato in quel momento deve anche redistribuire il merito tra i colleghi tra quelli che l'hanno preceduto ricordate questa famosa frase di Newton che poi in realtà lui riprendeva da una tradizione medievale che è sono un nano sulle spalle di giganti cioè cosa vuol dire vuol dire che io ho potuto dare il mio contributo solo perché ci sono stati altri grandi prima di me e quindi c'è sempre questo alternare ovviamente la genialità individuale il contributo individuale per questo che ti diamo il premio però al tempo stesso fare sempre un passo indietro io cito una frase straordinaria di uno scienziato che ha vinto il premio Nobel per la medicina che dice beh ci sono quelli ovviamente che addirittura esagerano no? Peter Agr premio Nobel per la chimica nel 2002 dice ma io non ho fatto niente facevo il caffè per i ragazzi del laboratorio poi facevano tutto loro c'è anche questo tipo di esagerazione e poi c'è uno che dice ho molte qualità ma quella che più mi contraddistingue è la modestia ecco questa questa immagine dello scienziato ecco qui interpello più che l'autore il sociologo della scienza questa immagine dello scienziato distratto svagato è lo scienziato tipico di Hollywood in qualche modo no? tra l'altro lo scienziato tipo deve essere uno scienziato universale qualunque sia l'argomento scientifico su cui lo interpelli lui ne sa tutto è lo scienziato di Ritorno al Futuro sono mille scienziati Sheldon Cooper ok? di Big Bang Theory la modestia la modestia di Newton che poi penso fosse un po' ipocrita perché Newton era tutto forché modesto credo ci sono dei personaggi è una modestia rituale è una modestia rituale ok ora un personaggio come Richard Feynman è inquadrabile in questa scena Richard Feynman famoso Bon Vivant famoso Tom Berdefam personaggio totalmente al di sopra delle righe suonatore di Bongi d'accordo genio genio indiscutibile uno dei più grandi geni della fisica del secolo scorso premio Nobel ok è l'unico caso al di fuori degli schemi? no no ce ne sono ce ne sono moltissimi ma appunto lo scienziato proprio per questa sua diciamo c'è sempre questo doppio gioco nell'immagine dello scienziato in particolare del Nobel non so se vi ricordate quando Dulbecco andò a Sanremo con Fabio Fazio a condurre una scelta abbastanza singolare chissà se Alfred Nobel l'avesse saputo lui che era a Sanremo e c'era continuamente questo questo duplice registro dello scienziato quindi Fabio Fazio presentava con il genio premio Nobel e lui che poi si sminuiva diceva ma sono venuto qui per dimostrare che lo scienziato è una persona normale come tutti gli altri quindi c'è sempre questo gioco tra l'eccezionalità e poi appunto amare la musica la bella vita un altro che mi viene in mente abbastanza simile a Feynman da questo punto di vista è Carey Mullis questo che aveva inventato la PCR che tra l'altro una storia interessante anche quella che dovrebbe dare speranza perché quando lui fa questa scoperta manda un articolo alla Ripare Fosse Nature comunque un'importante rivista e glielo bocciano e dopo ci vincerà il premio Nobel è un'importantissima tecnica diagnostica diciamo che permette come di ingrandire il materiale genetico e lui nella sua autobiografia racconta soprattutto più che la scienza la sua passione per il surf e anche le sue esperienze con le droghe per esempio quindi diciamo è uno è sicuramente uno di quegli esempi un po' singolari ce ne sono Feynman tra l'altro quando gli chiedono cosa avrebbe fatto col premio dice non ci faccio niente lo tengo da parte e ci pago le tasse per i prossimi 20 anni perché il premio viene tassato dipende naturalmente poi quanto dai singoli paesi io vorrei lasciare tra un attimo lo spazio alle domande del pubblico però prima di farlo devo mantenere una promessa perché all'inizio se ricordi avevo detto che i miei motivi di soddisfazione per la tua presenza qui erano tre e mezzo e ne ho citati solo i primi tre allora a questo punto devo ammettere una cosa del tutto personale avevo delle ambizioni da ragazzo e mi sarebbe piaciuto vincere un premio in qualche campo in realtà dal punto di vista di Sanremo ero negato purtroppo un piccolo problema personale che sono completamente stonato a questo punto avevo dirottato sul secondo premio e quindi puntavo su Miss Italia e qui si è parlato prima di pregiudizi di genere ce n'è uno molto assurdo molto strano sembra che non sia possibile e quindi anche questo mi è stato cassato come possibilità a questo punto io vorrei puntare sul premio di consolazione ed il Nobel potrebbe essere una buona idea allora con il sesso ci siamo con l'età tu dicevi qualcuno qualcuno ha parlato di mezza età io la fermerei prima la mezza età ma comunque ci sono ci siamo dentro potrei autocandidarmi c'è la possibilità da parte di qualcuno che non abbia dietro le spalle un comitato che promuova le sue eccezionali doti di scienziato di di spedire all'Accademia delle Scienze della propria autocandidatura c'è qualche cosa di questo tipo allora io ti auguro comunque di vincerlo perché c'è ancora come ho detto c'è sempre tempo per prendere il premio non è mai troppo tardi per vincere il premio Nobel però mi spiace deluderti nel senso che come ho detto gli unici che possono nominare sono quelli che sono invitati a nominare tra questi ci sono naturalmente degli ex cioè degli ex dei premi Nobel perché non si è mai cioè si è sempre il premio Nobel non può essere revocato è come un diamante per sempre non può essere ritirato non può essere revocato nemmeno quando si sbaglia perché 1927 due scoperte in medicina state premiate due tutte e due erano sbagliate sono rivelate sbagliate succede anche ai migliori è per questo che adesso aspettano così tanto tempo prima di premiare diciamo il modo uno dei modi più sicuri per non ricevere mai un premio Nobel è autocandidarsi però appunto io nel libro siccome ho passato molto tempo all'Accademia delle Scienze dove ci sono gli archivi delle decisioni di come si è arrivati a decidere il premio Nobel che però con la discrezione tipicamente svedese che caratterizza il premio si possono consultare solo dopo 50 anni quindi adesso non si può sapere quando leggete sul giornale che era stato candidato ma non l'ha ricevuto Tizio Caio con pure speculazioni adesso noi sappiamo le cose fino al 1967 e lì ho avuto la possibilità di vedere un archivio piuttosto grande che loro chiamano i B-Files io qui ho chiamato il lato B del premio Nobel del premio Nobel scusate stavo anch'io cioè che cosa sono sono tutte le cose che le persone mandano scoperte persone che hanno reinventato la gravità la relatività invenzioni formidabili sono a volte faldore a volte sono cose con disegni bellissimi o scritte da persone evidentemente con dei problemi nulla viene reso pubblico per non naturalmente compromettere la credibilità del premio ma tutto viene conservato quindi io ho potuto fotografare tante di queste cose ve ne leggo una che è una delle più belle secondo me una cartolina dagli Stati Uniti all'Accademia Reale delle Scienze di Svezia sono una persona socievole e amante della musica chiedo alla vostra segreteria di contattarmi perché sono interessata a ricevere il premio Nobel il mio numero di telefono e poi c'è il numero di telefono però questo perché al di là del fatto che è divertente è interessante perché significa che comunque anche chi evidentemente non sa niente però il premio lo conosce quindi è un indicatore di come il premio comunque sia diventato dicevi tu un brand globale volendo definirlo così e poi naturalmente un altro meccanismo rivelatore è un po' come un personaggio quando diventa famoso qual è un indicatore della celebrità di un personaggio quando cominciano a farti limitazione e allora o quando cominciano a prenderti in giro e quindi ci sono per esempio i premi in Nobel non so se avete sentito parlare qualche settimana prima dei premi Nobel vengono dati questi premi a Harvard e sono in realtà a ricerche che sono pubblicate su riviste serissime però fanno un po' ridere per esempio l'anno scorso è stato premiato questo articolo each relief by mirror scratching dal quale insomma sembra che se uno ha prurito alla parte sinistra del corpo se si guarda allo specchio si gratta a destra prova sollievo alla parte sinistra e viceversa per la fisica hanno premiato uno studio sul perché le libellule prediligono possarsi sulle tombe nere nei cimiteri c'è uno scienziato che ha vinto prima l'ignobel e poi il nobel quindi anche lì c'è speranza è un russo si chiama andrei game è quello del grafene avete sentito parlare di questa che tra l'altro è interessante perché nasce da un esperimento che lui gli chiama gli esperimenti del venerdì sera cioè quando tutti vanno via dal laboratorio lui restava e faceva le cose un po' più strampalate infatti il grafene nasce in realtà da un'osservazione molto elementare poi naturalmente specificata cioè legata all'utilizzo appunto della sapete quando si fa la punta la matita su un filo sottilissimo su una pellicola sottilissima come un nastro adesivo e quindi fatta iniziata con piccolissimi mezzi e l'ignobel lui tra l'altro dice alla BBC dice valuto il mio premio ignobel allo stesso livello del mio premio nobel per me il premio ignobel è stata la dimostrazione che so accettare gli scherzi il premio ignobel non so c'è qualche animalista in sala ma comunque l'ha fatto lui non l'ho fatto io l'ha preso perché per aver fatto levitare una rana in un campo magnetico quindi diciamo nell'esperimento si vede questa rana che galleggia gli studenti si possono utilizzare gli studenti si possono utilizzare penso di sì quindi diciamo l'ironia e concludo leggendo due cose che hanno a che fare con l'ironia è un modo è uno strumento appunto per far convivere queste due narrative che dicevo prima quella dell'eccezionalità morale lo scienziato è una persona straordinaria e quello dello scienziato umano troppo umano per esempio sapete che c'era stata questa iniziativa poi negli anni 70 che poi non ha funzionato molto bene sembra che pochissimi abbiano donato della banca del seme dei Nobel per le signore che speravano utilizzando questo di avere poi dei figli straordinari e François Jacob premio Nobel per la medicina dice solo chi non conosce i premi Nobel potrebbe volerli riprodurre in questo modo concludiamo appunto con due cose più leggere e una appunto sempre questo registro dell'ironia è un aneddoto che circola all'Accademia delle Scienze ed è una la storia è quella di un premio Nobel che si ferma con la moglie a una stazione di benzina la moglie riconosce il benzinaio scende e si mette a baciarlo e abbracciarlo risale in macchina e spiega dice era un mio vecchio fidanzato lo scienziato è un po' indispettito dice è un po' imbarazzante per me vederti baciare un benzinaio in pubblico dopo tutto sono un premio Nobel e la moglie risponde sì è vero sei un premio Nobel ma se avessi sposato lui adesso il premio Nobel sarebbe lui e l'ultimissima poi ce ne sono altre nel lino allora appunto c'è questo momento di quando vengono a sapere della notizia di solito da una telefonata però c'è chi per esempio mi pare Higgs era fuori a fare la spesa e ha incontrato una conoscente che gli ha detto ah guarda che hai vinto il premio Nobel allora Martin Cialfi stava a New York stava dormendo per la differenza di fuso orario e non sentì la telefonata da Stoccolma lui adesso sono le sue parole è una situazione abbastanza ridicola ma anche divertente mi sono svegliato alle 6 e 10 e mi sono reso conto che dovevano aver dato il premio in chimica e così mi sono detto vediamo chi è il coglione che ha preso il premio quest'anno allora ho acceso il computer sono andato sul sito dei Nobel e ho scoperto che il coglione ero io a questo punto vi prego fategli qualcuna delle domande che avrei voluto ancora fargli io un istante arriva il microfono ma mi pare che sia stato candidato Hitler come Nobel alla pace è tutta una bufala quindi allora io non mi sono occupato del Nobel per la pace però diciamo le nomination ufficiali che sono quelle come dicevo fino a 50 anni fa che però dovrebbero coprire ampiamente il personaggio in questione non credo che non mi risulta ecco per il Nobel in campo scientifico in Italia quali sono stati diciamo perché siamo degli studenti un po' ignoranti e non ci andiamo a informare sì allora i Nobel italiani nelle scienze sono un'unica donna Levi Montalcini quelli del dopoguerra spero di non dimenticarmene nessuno erano tutti tranne Carlo Rubbia la fisica tutti lavoravano purtroppo fuori dall'Italia quindi diciamo erano italiani di origine Dulbecco Luria premio Nobel per la medicina Segre per la fisica Natta per la chimica e poi Capecchi e mi sfugge un fisico sicuramente forse te lo ricordi tu Giacconi Giacconi Marconi Fermi credo di averli detti tutti poi ci sono quelli per la letteratura che sono parecchi l'ultimo è stato Dario Fo nel 97 e per la pace mi pare solo Moneta comunque nel libro alla fine c'è l'elenco ci sono tutti anno per anno materia per materia qualche altra curiosità il successo del Nobel ha contribuito anche l'entità del premio cioè l'entità del premio ha fatto il successo del Nobel sicuramente sicuramente come ho detto il fatto che un industriale avesse lasciato tutti questi soldi per un premio fece subito notizia e il fatto che effettivamente comunque sia una cifra poi vabbè quando viene divisa per tre alla fine non è poi o addirittura quando uno ne prende un quarto sicuramente ha contribuito certamente a un certo punto qualcuno propose e dice ma perché non evitiamo tutta questa messa in scena e mandiamo l'assegno per posta ecco non sarebbe sicuramente la stessa cosa se non ci fosse tutto il rituale tutta la cerimonia però sicuramente anche ripeto soprattutto l'entità del patrimonio ha contribuito senza dare i soldi sì non lo so insomma a questo punto probabilmente sì a questo punto probabilmente sì però è una tradizione poi comunque è nel testamento quindi anche volendo non si potrebbe non si potrebbe cambiare perché è proprio nelle volontà di Nobel questo fatto che si è dato è una gradevole tradizione non è l'aspetto più piacevole della cosa poi un'altra cosa di cui tu hai parlato è che questa sera non è emersa è in che cosa uno è stato premiato perché sono venute fuori degli aspetti abbastanza curiosi sul premio sulla natura del premio che uno ha preso io ho sempre seguito una divisione tra le scienze molto semplice molto lineare se è verde o scodinzola è biologia se puzza è chimica se non funziona è fisica ma chi ha dato i premi è andato in un modo alquanto più contorto quindi degli evidenti fisici sono stati premiati in chimica Rutherford ad esempio no? quindi sono successe cose strane anche da questo punto di vista sì tra l'altro ironicamente perché Rutherford diceva l'unica scienza è la fisica tutto il resto è collezioni di Franco Bolli e poi gli dettero il premio Nobel in chimica quindi diciamo ci sono sono successe soprattutto tra fisica e chimica però anche con la medicina perché diciamo la logica avrebbe voluto a quell'epoca che Watson e Crick fossero premiati per la chimica in realtà poi perché si doveva premiare quell'anno qualcun altro per la chimica furono premiati per la medicina nonostante fossero uno era un fisico e l'altro aveva studiato zoologia quindi candidati per le loro nomination tutte in chimica fisico e uno zoologo vincono in medicina tra l'altro non so se ricordo male ma mi pare proprio in occasione del premio Nobel a questi due scienziati ci fu un altro già premiato precedentemente con il Nobel che pronunciò una frase abbastanza famosa e cioè disse dobbiamo essere vicini al tramonto se figure così basse proiettano delle ombre così lunghe non ricordo questo però può essere sono state dette molte cose per esempio quando nei primi anni quando si stava lottando per istituire il premio che non fu affatto facile perché c'era l'opposizione della famiglia gli scienziati non volevano sapere il re di Svezia diceva ai parenti diceva ma siete sicuri tutti questi soldi di non volervi opporre e uno scienziato un grande chimico disse ma istituire un premio per gli scienziati pensando che questo gli incentivi è la cosa più stupida che io abbia mai sentito in realtà appunto poi ha avuto ragione Alfred Nobel perché sicuramente ripeto di tutti i suoi 350 brevetti rimane l'invenzione che più ha segnato la storia e anche ha cambiato il nostro modo di vedere la scienza quindi nessuna altra domanda? bene allora nel ringraziare veramente al lupo per il prossimo ottobre a tutti voi nel ringraziare Massimiliano Bucchi per la sua presenza e per e per l'interesse che ha creato credo in tutti i presenti sull'argomento sul quale ha trattato e io vi invito seriamente vi invito molto sinceramente come ha fatto l'assessore a procurarvi questo libro e ne avete la possibilità qui all'uscita perché è un libro che contiene molto di più di quanto questa sera non sia stato detto assolutamente molto di più vorrei salutarvi se mi è possibile se mi è permesso con un invito con un invito a partecipare ad altre due serate che seguiranno prossimamente l'una organizzata da Guanxi l'altra organizzata dalla Via delle Scienze la prima quella del 5 dicembre avrà come ospite d'eccezione Roberto Burioni il celebre ricercatore nel campo medico che ha pubblicato un libro di recentissima uscita e che è La congiura dei somari è un libro che sento profondamente di dover caldeggiare e quindi invito tutti a venire ad assistere a questa serata l'altra serata che invece si svolgerà il 12 dicembre è in recupero di quella che il 7 novembre non ha avuto per motivi ahimè assai tristi non ha potuto avere luogo sarà la serata dedicata a contrattempo una come posso chiamarla un'opera letteraria se così mi è consentito che verrà rappresentata in un reading anche musicale da un gruppo di teatranti professionali che sono gli Scavalcamontagne il 12 dicembre ci sarà questa serata in recupero di quella che il 7 novembre non abbiamo potuto realizzare e con questo auguro una serata positiva buona e con un sogno di nobella a tutti voi e arrivederci alla prossima occasione grazie a tutti grazie grazie